Il passo laterale destro si esegue da una posizione di semitempo, quindi solleviamo la gamba destra. Quali sono gli accorgimenti da tenere in considerazione? Il corpo è inclinato a sinistra, la gamba destra è stesa, il piede è completamente appoggiato a terra, la gamba sinistra forma un angolo di 90 gradi. La punta del piede sinistro è appoggiato, il tallone è sollevato ed effettua una rotazione di 90 gradi in senso anti-orario, così. La parte superiore del corpo ruota completamente a destra, quindi va nella direzione opposta al piede sinistro. Ora eseguirò il passo laterale destro normalmente. Ora vedremo come legare il passo laterale destro alla base del free step. Quindi parto dal passo laterale destro. Vuoto il piede sinistro di 130 gradi, così. Contemporaneamente alzo la gamba destra, così. E concludo con il passo indietro. Ora eseguirò il passo laterale destro legato alla base normalmente. Ora eseguirò il passo indietro. Ora eseguirò la base di uman mistretario. Grazie.